Ciao a tutti ragazzi, come vi avevo promesso oggi vi parlerò di ricette e realizzeremo insieme una ciambella allo yogurt con gocce di cioccolato questa è una ricetta veramente semplice, veloce ma allo stesso tempo leggera perché dalla ricetta originaria che prevedeva del burro l'ho sostituito con l'olio di arachidi rendendo questo dolce adatto anche per coloro che sono a dieta ovviamente è stato un mio desiderio aggiungere le gocce di cioccolato per renderlo più saporito però ovviamente se voi siete in dieta potete tranquillamente farne a meno allora gli ingredienti che occorrono sono 250 ml di yogurt 200 g di zucchero, 200 g di farina, 160 g di maezena, 120 g di olio di arachidi 4 uova, una bustina di vanillina o in alternativa della buccia grattugiata di un limone come ho fatto io una bustina di lievito per dolce e un pizzico di sale allora come vedete nel video che già sta andando avanti che cosa ho fatto? ho preso le uova e le ho separate ho preso il bianco, appunto l'ho messo in una terrina ho aggiunto un po' di sale e ho cominciato a sbattere come saprete benissimo il bianco dell'uovo montato a neve servirà a rendere il composto molto più leggero e più spumoso allora una volta aver avviato questo procedimento in una terrina a parte ho preso il rosso delle uova, ho aggiunto lo zucchero e l'ho montato cercando di rendere il composto il più spumoso possibile poi una volta fatto questo ho preso l'olio e ho cercato di versarlo nel composto piano piano cioè l'ho fatto a filo insomma in modo tale che tutti gli ingredienti potessero amalgamarsi senza problemi ovviamente è un po' di scopo subito dopo questo passaggio ho preso la buccia grattugiata di un limone voi in alternativa potete utilizzare la vanillina però se utilizzate il limone mi raccomando che sia biologico o che almeno non abbia la buccia trattata che sia il più naturale possibile poi ho preso 250 ml di yogurt e li aggiunti al composto li ho messi appunto nella terrina ho preso il mio frullino e l'ho mascolato tutto ovviamente io ho utilizzato il frullino perché avevo poco tempo e quindi per velocizzare tutto il lavoro però se avete tempo da perdere potete tranquillamente farne a meno a questo poi ho preso la farina e l'ho aggiunta al composto io sempre per ragioni di tempo ho utilizzato un cucchiaio l'ho versato così velocemente però potete utilizzare anche un setaccio anzi sarà sicuramente migliore il risultato dopo aver versato tutta la farina ho utilizzato delle gocce di cioccolato voi ovviamente siete liberi di metterle all'interno del composto oppure di evitare insomma e poi ho aggiunto il bianco dell'uovo che come vi dicevo servirà per rendere più soffice il composto e quindi il dolce a questo punto ho imburrato inutilmente una teglia di silicone perché come ben sapete le teglie di silicone non serve imburrarle però cosa ci possiamo fare sono deficiente ecco la mia torta è pronta mi raccomando di metterla in forno a 180 gradi per circa 50-60 minuti e buon appetito il dolce è pronto io vi saluto vi mando un bacio e alla prossima ciao ciao